E' chiaro che adesso sono più a mio agio perché conosco tutto l'ambiente da tutto quanto l'ambiente che c'è attorno. Qua ovviamente cercherò di fare il mio meglio per la squadra, di aiutare quelli che sono i compagni e so anche, è chiaro, di essere un uomo, un team leader. Ha detto che nonostante le difficoltà che sono state perché ci sono giocatori che sono ancora da insidere, per lui è stata una buona pre-season perché la squadra che ha giocato ha combattuto è stata competitiva. Poi adesso nel corso di queste settimane, di questi mesi di regolamento cercheranno di mettersi un po' di più insieme per migliorare quella che è la chimica di squadra e quindi per ottenere risultati assieme al coach sacrivanti. Io credo che questo è ancora ancora da essere visto. Siamo solo stati insieme per 4-5 settimane. Potremmo ottenere dei migliori risultati rispetto all'anno scorso. In questa squadra, innanzitutto, quella dell'anno scorso, c'erano dei ragazzi giovani che andavano destinati, mentre quest'anno ci sono dei giocatori di team player, un giocatore di squadra che giocano tutti insieme e non solo scorrere, ma tutti possono poi fare canistra. Io credo che siamo in stessa posizione. Ovviamente Reggio Milia è un giocatore molto importante per noi nel primo gioco. Dobbiamo proteggere i nostri giocatori. Siamo in quanto è importante. Poi la cosa che dice è quella di dover proteggere, il fattore campo, perché è una cosa a cui lo tengono. E con Reggio Milia l'ho giocato diverse volte negli ultimi anni e sa quanto sia importante questa partita e anche della rivalità che sussiste. perché è molto importante che veniamo con una vittoria. Non credo che sia troppo difficile, solo perché il fatto è che devono crescere tutti quanti e essere tutti quanti coinvolti nel sistema di squadra. Poi è chiaro che tutti potranno dare il massimo per farlo. Poi è chiaro che ci sono Fili Vallo e Fioi, che sono i migliori giocatori di distruzione di pick and roll, dalle quali si crea tutto. Sono loro più importanti sia per la squadra che per i due pivot, che faranno parte di questo sistema che cercheranno di migliorare nel corso delle settimane. e credo che il resto della squadra sarà il migliori giocatori per assicurare che i due biglietti abbiano una migliora transizione dentro la squadra. Siamo a Avellino, adesso stupiamo per dei grandi obiettivi, sia come squadra che come città. Questo è il nostro obiettivo. Cercheremo di crescere come squadra e portare avanti questo che abbiamo fatto nel corso di questo primo mese dell'Amento. Ci dobbiamo portare avanti anche nelle prossime settimane. Tutti i giochi sono aperti e ogni squadra lotterà fino alla fine per poter vincere. Quindi il risultato non è scontato. Il risultato è stato il migliorare la squadra. Il risultato è stato il migliorare la squadra. E il risultato è stato il migliorare la squadra. Quindi tutti hanno la speranza di avere la squadra di giochi. E il risultato è stato il migliorare la squadra.